Conturbante Viaggi e Turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza. E' stato proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale della Silva S.p.A. A comunicarlo in una nota il segretario provinciale sanità accreditata della UIL Antonio Malangone. La società Silva S.p.A. infatti non ha pagato lo stipendio del mese di dicembre 2020 alla scadenza contrattuale ed in ritardo sulla corresponsione degli arretrati del contratto collettivo nazionale dei lavoratori della sanità privata accreditata a far data dal 1 luglio 2020 e dell'unatantum di 1000 euro per gli effetti del rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore. L'azienda, spiegano dalla UIL, persevere un comportamento lesivo delle prerogative dei lavoratori. Per questo motivo siamo seriamente preoccupati in quanto ci risulta che sia l'unica struttura sanitaria accreditata che è in ritardo con la mensilità di dicembre e siamo ancora più preoccupati in quanto fra dieci giorni i lavoratori matureranno un'altra mensilità. E' chiaro ed evidente che tale stato di cose si riserva logicamente sulle condizioni economiche dei lavoratori e sulla paventata possibilità di azioni esecutive da parte dei terzi, a loro danni in conseguenza di omessi pagamenti di date, mutui o di obbligazioni. In attesa di soluzioni urgenti e concrete, la UIL ha attivato quindi lo stato di agitazione dei dipendenti.